Lo spelling di prestidigitazione. P-R-S-T-I-D-G-I-T-A-Z-I-O-N-E. Esatto. Lei crede che Achilla possa vincere la gara nazionale di spelling? Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco. E così hai paura? Voglio vincere la gara nazionale di spelling! Quando il talento supera ogni difficoltà. Una parola per un sogno. Sabato alle 21.20.